signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito usuale consueto e inestricabile della mia libreria allora allora in questo video parliamo brevemente di un aereo quasi sconosciuto e pressoché dimenticato nella storia dell'aeronautica italiana da questo numero di aerei nella storia il numero 79 dell'agosto 2011 e parliamo del caproni ap1 e parliamo di questo aereo qua allora che cos'era il caproni ap1 eccone qua anche un altro esemplare eccone qua un esemplare pronto al decollo allora nico sgarlato ci racconta la storia la genesi e la storia di questo aereo allora praticamente nel 1932 il generale amedeo mecozzi tratteggiò le linee del futuro aereo del futuro velivolo da assalto e nel primo semestre del 1933 la direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti del ministero dell'aeronautica presentò alle ditte delle richieste alquanto esigenti per questo per questa nuova tipologia di aereo secondo le direttive il nuovo aereo avrebbe dovuto essere adatto al duello aereo all'attacco ai bombardieri avversarie alle truppe di superficie mediante mitragliamento con lancio di bombe leggere con obiettivi prioritari di alta quota con bombe di medio e grosso e grosso calibro e all'esplorazione in pratica si doveva trattare di un aereo tutto fare allora l'ingegner zanni caproni nel 1929 aveva acquistato i cantieri aeronautici bergamaschi i cab di bergamo ponte san pietro allora nel 33 praticamente il conte caproni chiamò l'ingegner marchese cesare pallavicino che fino allora era stato direttore tecnico della breda del comparto aeronautico della breda e dicevo caproni fece affidò a pallavicino la direzione dei cantieri aeronautici bergamaschi allora cercando di aderire quanto più possibile alla esigente e anche decisamente complicata per non dire velleitaria diciamo c'è verità specifica di tratteggiata da me cozzi pallavicino affrontò il suo primo progetto per la caproni di bergamo e il suo progetto lo ap1 risultò finalista insieme al breda 64 allora il caproni ap1 volò per la prima volta il 27 aprile 1934 a bergamo ponte san pietro pilotato da alberto marazzani che all'atterraggio ebbe un incidente causando danni piuttosto estesi al al prototipo l'aereo fu comunque riparato e completato poté tornare all'attività di volo attività di volo che proseguì con domenico antonini e poi con ettore vengi la p1 eccolo qui insomma dicevo come si vede la p1 non era un aereo esteticamente riuscitissimo ecco qua non si poteva dire propriamente riuscito come come aereo e la dgca chiese che fossero apportate diverse modifiche e il secondo prototipo divenne l'unico ap1 bis o ca 305 che aveva carrello dalla careggiata allargata e retrattile e una ricostruzione integrale della cellula e praticamente si trattava come dire di un aereo che aveva alcune caratteristiche moderne l'ala bassa a sbalzo la radio un armamento interessante ma il carrello fisso e la costruzione a struttura mista tubi d'acciaio tela e legno insomma come dire un un pessimo se vogliamo mix visto che il progresso aeronautico portava già da tutt'altra parte senza poi contare la scarsissima potenza dei nostri motori perché lo ap1 montava un alfa romeo ar 125 rc 35 pegaso 9 cilindri a stella raffreddato ad aria che erogava 700 cavalli al decollo e 650 cavalli a 3500 metri con un peso a vuoto di 1901 chili e di 2400 chili massimo insomma capite anche voi che con un rapporto peso potenza di 4 chili per cavallo c'era decisamente poco da scialare infatti le prestazioni erano tutt'altro che esaltanti perché parliamo di 347 chilometri orari a 4000 metri come velocità massima e 266 chilometri orari a bassa quota alla cosiddetta quota zero una salita a 3000 metri in 7 minuti e in 10 minuti si saliva a 4000 metri per arrivare a 6000 metri occorreva invece 20 minuti buoni vabbè che vi devo dire una tangenza pratica 6500 metri un raggio d'azione di 850 chilometri per 1900 chilometri di autonomia due mitragliatrici breda modello 1928 da 7 e 7 millimetri con 800 colpi per arma una dello stesso tipo con 350 colpi e 400 chili di bombe insomma 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 un aereo non esaltante un aereo non eccezionale un aereo che dimostra come in italia fosse pressoché impossibile passare dalla buona teoria alla pratica è perché come dire se l'italia ha con giulio 2 inventato la dottrina del potere aereo del bombardamento strategico e con mecozzi ha inventato le teorie della moderna aerocooperazione interforze ahimè queste cose qui in italia non furono mai sviluppate e quando si cercò di farlo diciamo nell'ambito delle teorie di mecozzi lo si fece con un aereo così un aereo oggettivamente mediocre un aereo dalle prestazioni scadenti un aereo dalle prestazioni oggettivamente scarse una guidabilità chiamiamola così pessima ripeto qualità velocistiche decisamente scarse cioè questo aereo questo aereo nell'ambito della specifica avrebbe dovuto funzionare come aereo da assalto insomma come caccia bombardiere che avrebbe dovuto come dire combattere con combattere con la caccia avversaria attaccare al suolo le truppe o le navi avversarie e fare mille altre cose praticamente quello che anni dopo avrebbe fatto il p 47 thunderbolt o l'f4 u corsair la teoria di mecozzi era quella ma oggettivamente stiamo parlando rispetto al caproni ap1 scusate se ve lo dico stiamo parlando di tutt'altre cose stiamo stiamo confrontando veramente stiamo confrontando veramente l'aeroplanino di carta con un con un'astronave di guerre stellari ecco c'è questo era il fatto c'è la dimostrazione il caproni ap1 che poi diciamo avrebbe perso la competizione con il breda b a 65 era non solo un aereo brutto dalle dalla insomma non era soltanto un aereo brutto era un aereo che volava decisamente male e che aveva prestazioni scarse la specifica che lo vide insomma la specifica che lo portò alla luce era per i mezzi della nostra industria decisamente troppo pretenziosa e avanzata non avevamo motori all'altezza non avevamo l'esperienza non avevamo le capacità innovative per creare l'aereo da assalto al suolo perfetto ci sarebbero riusciti qualche tempo dopo con ben altri mezzi e con ben altri numeri gli americani quando crearono il corsair quando crearono il thunderbolt o i o gli inglesi quando affinarono il typhoon e crearono il tempest ok tutto qua ripeto il c'è come dire il il questo aereo lo ap1 l'assaltatore ideato dal marchese pallavicino ebbe un impiego operativo limitatissimo e praticamente fu legato esclusivamente all'attività prebellica della quinta brigata aerea d'assalto sistemata a ciampino che era organizzata sul quinto stormo e sul cinquantesimo stormo e diciamola così la p1 fu un aeroplano con poche per non dire pochissime doti aveva forse l'unica cosa un armamento accettabile forse e nel luglio del 1938 cioè era un aeroplano talmente mediocre talmente scadente che già nel luglio del 1938 gli ap1 risultavano già ritirati dalla prima linea e trasferiti a compiti addestrativi per poi arrivare ad essere radiati nel 1940 nel gennaio 1940 quando la regge aeronautica fu chiamata in guerra nel giugno 1940 nessuno degli ap1 era più operativo gli unici che ancora avevano un ruolo nella regge aeronautica erano i quattro ap1 idro convertiti in questi qua in aerei da addestramento per gli idrovolanti eccolo qui questo però insomma anche questi qui ebbero poco da fare furono assegnati questi idro cioè come dire questi idro furono convertiti in aerei per il volo a tuffo e furono impiegati fino alla radiazione definitiva come addestratori il 30 marzo 1942 alcuni esemplari furono ceduti all'estero nella fattispecie in spagna e le forze aeree franchiste ne misero in servizio 7 ma anche lui anche lì dopo un anno erano tutti fuori fuori uso accantonati dell'uso in america latina perché diversi esemplari furono venduti a paesi come il paraguai e la bolivia e praticamente praticamente si sa che gli aerei gli ap1 paraguaiani rimasero a lungo accantonati almeno fino al 1945 perché con l'entrata in guerra dell'italia avere pezzi di ricambio e manutenzione era diventato pressoché impossibile nel 1945 nel 1947 scusate in paraguai scoppiò la guerra civile e gli ap1 furono riesumati vi lascio immaginare con che insomma con che successo mentre alcuni altri esemplari venduti a el salvador furono radiati nel 1948 insomma la p1 il tentativo italiano il primo di ottenere un assaltatore questo aereo doveva essere un aereo d'attacco al suolo un aereo da bombardamento impicchiata un aereo da caccia un aereo da ricognizione i risultati furono a dir poco per non dire penosi per non dire disastrosi insomma un aereo velleitario che doveva fare troppe cose un aereo che oggettivamente era tra lo scarso lo sconsolante e il mediocre tutto qua quindi cari signori io come sempre vi ringrazio per l'attenzione come sempre attendo le vostre considerazioni su questo video come sempre ripeto ci sono i commenti ci sono insomma ci sono i commenti per saperne qualcosa di più su questo aereo ma oggettivamente ripetiamo si trattava di un aereo non molto ben riuscito di un aereo mediocre di un aereo che riassume in sé il paradigma della retratezza dell'industria aeronautica nazionale italiana tutto qua quindi cari signori come sempre io vi ringrazio per l'attenzione come sempre ripeto aspetto i vostri commenti come sempre ciao